Nel 2020 di fattori di incertezza ne avremo parecchi. Abbiamo avuto una testimonianza in queste prime settimane, abbiamo avuto tutta la confusione geopolitica in Iran, abbiamo avuto tutto quanto successo in Australia e infine abbiamo avuto anche questo episodio del coronavirus. Interpretare questi fattori dal punto di vista del mercato cosa vuol dire? Vuol dire cercare di capire se il mercato ragiona in termini di cambiamento delle prospettive di crescita oppure cambiamento dell'appetito per il rischio. Ovviamente tutto ciò che riguarda la geopolitica è un cambiamento dell'appetito per il rischio. Il coronavirus è un cambiamento delle attese di prospettiva di crescita, ma nel 2020 ovviamente si staglieranno le elezioni americane. Questo ovviamente ci presenta un candidato come Trump che a sua volta vorrà fare il buono o il cattivo con i mercati a seconda di chi si troverà davanti. Per cui una delle date da cerchiare col circoletto rosso per capire quale sarà l'atteggiamento di Trump e in generale della politica economica americana in vista delle elezioni è certamente quella di martedì 3 marzo, giorni in cui verosimilmente si capirà se il candidato democratico sarà un candidato progressista, molto attento per cui ai temi di rialzo delle tasse, di controllo dell'ambiente, oppure se sarà un candidato più tradizionale come ad esempio Biden e questo ovviamente determinerà anche l'atteggiamento di Trump nei confronti della campagna elettorale americana. Un mare di incertezza probabilmente, ma questo se ci ragioniamo è sempre così. All'inizio dell'anno nessuno sa mai come va a finire. Quest'anno forse una piccola certezza ce l'abbiamo, che l'ancora di salvataggio che ci hanno tirato le banche centrali nel corso del 2019 difficilmente sarà riproposta a meno di tragedie macroeconomiche. Questo che cosa vuol dire allora per gli investimenti? Vuol dire quanto segue, vuol dire che partiamo da valutazioni che non destano delle preoccupazioni eccessive ma non possiamo di certo ritenerle a buon mercato. Abbiamo iniziato il 2019 con i saldi di Natale, il 2020 invece non ci offre nessun saldo sui mercati azionari, ci offre delle valutazioni piene sia sui mercati azionari che sui mercati obbligazionari. Andiamo incontro per cui a un mondo con valutazioni piene, un mondo in cui le banche centrali verosimilmente saranno in una sorta di paralisi perpetua nel corso di questo anno. Per cui qual è il consiglio per gli investitori? Il consiglio per gli investitori è quello di utilizzare prudenza e flessibilità. Le due cose ovviamente non sempre vanno insieme e non sempre sono adatte. Nel corso del 2019 non c'era bisogno né dell'una né dell'altra. Nel corso del 2020 invece la prudenza dato il prezzo a cui si acquista e la flessibilità visto i fattori di rischio che sono in gioco.